ciao a tutti bentornati oppure benvenuti qui sul mio canale oggi siamo nella mia camera da letto perché voglio mostrarvi una cosa non fate caso al boppi che lì perché da quando l'ho usato in gravidanza non riesco più a farne a meno vi faccio vedere quello che è successo alla testiera del mio letto che in similpelle in ecopelle guardate guardate in che incondizioni è atroci io ogni volta che vedo questa testiera mi innervo sisco non avete idea perché l'ho sempre trattata pulita con cura con prodotti per adatti per la similpelle per la pelle con il latte detergente insomma ci ho messo sempre tanta cura nonostante tutto si è alzata una bollicina non so dovuta a cosa forse a un graffio magari nel sistemare il letto oppure si è alzata semplicemente da sola si è aperta e niente questo il risultato da una piccola bollicina adesso pian piano vedete la pelle la similpelle continua a sgretolarsi e sale sempre più su anche sui bordi cosa potrei fare la testiera non si può sostituire dovrei sostituire tutto quanto il letto l'unica cosa che mi hanno consigliato nel negozio dove io ho acquistato la camera e di farla rivestire da un tappeziere che ovviamente mi costerebbe più della sostituzione del letto in sé il letto è abbinato alla camera quindi o ne acquisto uno nuovo oppure me la devo tenere così cosa ho pensato di fare ho cercato su internet delle possibili soluzioni per una sorta di riparazione home made almeno per cercare di tenere il letto ancora per un bel po anche perché oddio cioè quando ho scelto la camera la testiera è stata una delle cose che non so semplice mi è piaciuta però veramente se dovete arredare casa acquistare la vostra camera da letto fidatevi non acquistate le testiere in similpelle in ecopelle perché sono bellissime io ci sono cascata stupende morbide sembrano facili da pulire perché la togli la polvere subito però se avete delle lenzuola e mi è successo che magari con lo sfregamento tingono e si tinge anche la similpelle ed è difficilissimo da far venire via non acquistate le testiere del letto in similpelle ritornando a noi dicevo ho cercato quindi delle soluzioni su internet e quello che ho trovato è la possibilità di poterla riparare con la similpelle adesivo ho acquistato un foglio questo è color coffee ho acquistato un foglio che è lungo è un metro e cinquantotto centimetri per 50 centimetri ho acquistato il foglio più grande che c'era la l'ecopelle e adesiva perché adesso io voglio fare un po di art attack tanto più che tenere la testiera ridotta in quel modo risposto di nuovo il cuscino più che tenere la testiera ridotta in quel modo preferisco a questo punto fare un lavoro sperando di farlo bene è almeno non vedere quella pelle che comunque a lungo andare salirà sempre più su e non riuscirò neanche più a coprirla con il cuscino questo foglio l'ho acquistato su ebay è stato velocissimo perché è arrivato forse in dieci giorni e unica pecca del venditore infatti vorrei scrivergli non gli ho ancora lasciato neanche il feedback io speravo anzi credevo che la pelle mi arrivasse arrotolata in un tubo comunque non piegata in questo barbaro modo perché adesso la pelle ha preso tutta quanta la forma io ho provato piano piano con il calore ad ammorbidirla però niente non ha funzionato granché è un po meglio rispetto a prima ma penso che queste pieghe rimarranno e spero almeno che con l'applicazione sulla testiera di riuscire a nasconderle il più possibile perché altrimenti cado dalla padella nella braccia perché voglio nascondere la gli strappi e poi mi ritroverò con la con la pelle tutta quanta pieghettata però vediamo un po come verrà il risultato non è un video tutorial diciamo chiamiamolo un video consiglio perché con questa soluzione della pelle adesiva vedete dietro e adesiva si possono riparare anche i divani o comunque le sedute delle sedie se le avete in pelle può essere una soluzione diciamo per tardare la sostituzione del dell'arredo ho preso il coffee perché come vedete adesso vi mostro il como hanno le venature che sono un po più scure allora lì c'è passata mia figlia che ha trovato un fazzoletto e l'ha distrutto e vedete la forse della videocamera non rende il colore della testiera del mio letto è un colore un po più particolare quindi ovviamente non si trova ci sono tantissimi colori di pelle su internet ci sono anche su amazon ma costano piccolissimi fogli e costano un botto e ci sono i classici colori io ho trovato questo qui che è coffee e voglio riparare la testiera del mio letto lasciando lo spazio il primo del colore originale il secondo coffee il terzo colore originale il quarto coffee e il quinto in colore originale vi dicevo non è un video tutorial è un video consiglio solo per mostrarvi il prima e il dopo perché eventualmente potete utilizzare questo metodo per riparare qualunque cosa in pelle o in similpelle della vostra casa che purtroppo con l'usura con l'utilizzo o con semplicemente passare del tempo presenta poi va a presentare una situazione del genere io mi armo di tanta pazienza di tanto coraggio perché ho paura di rovinare tutto e vi farò vedere il risultato finale a dopo eccoci qui questo il risultato finale sono abbastanza soddisfatta perché togliendo la carta adesiva la pelle si è ammorbidita e quindi le pieghe sono quasi del tutto svanite quindi su questo sono molto contenta ho foderato anche i bordini perché andavano ormai a rovinarsi l'unica cosa che sono molto delusa ma è stata anche un po colpa mia nel foderare questo bordo che quello che è venuto peggio per fortuna è dal lato di mio marito e dal lato finestra quindi vabbè lì non lo vedrà comunque nessuno non lo vede nessuno perché saluta amore perché essendo comunque la camera da letto ne che faccia entrare chiunque però è una cosa mia purtroppo la pelle si stava già iniziando a squarciare da quel lato lì andando a fare il bordino nel premere poi ho dato poi il colpo di grazia quindi ho dovuto mettere quel lembo di ecopelle e poi l'ho messo anche da questo lato anche se qui non era necessario per dare un senso di simmetria però diciamo che rispetto a prima il risultato mi soddisfa parecchio mio marito diceva compra altri un altro colore foderiamo anche queste tre parti però io sinceramente ho il dubbio poi su come fare questa parte qui per il momento ho voluto ovviare con questi lembi di pelle anche se purtroppo ho notato che qui c'è una bollicina e col tempo sicuramente anche lì la pelle si solleverà magari metterò anche al centro poi dei lembi di pelle anche perché me ne è avanzata un bel po posso fare qualche altro rattoppo metto i cuscini così vi faccio vedere io non sono molto ordinata con il letto è il massimo del mio ordine ok e questo è il risultato entrando nella mia camera beh rispetto a prima sono abbastanza diciamo soddisfatta se non fosse per quel piccolo problema che ho avuto lì questo è quanto spero che questo video possa esservi d'aiuto nel senso se avete delle problematiche di ecopelle di pelle strappata sul divano magari dei piccoli strappi potete giulia potete con questa soluzione allungare i tempi di sostituzione di uno di un arredo fatemi sapere cosa ne pensate a presto con il prossimo video ciao ciao ciao